Ciao a tutti ragazzi, oggi è con me, è un vlog, siamo sopra la bici di Peppe, non è mia però mi ha ospitato E niente, sono le che vi faccio vedere, le 15 e 21, infatti, ci vedete bene se non ci credete, 15 e 21, stiamo all'inizio con la telecamera perché il telefono di Andrea, c'è il telefono di Peppe, là sopra se l'abbiamo dimenticato, in quanto si vede benissimo raga, oddio c'è il cavalletto di Peppe, io non sopra la bici, qui c'è il cavalletto che mi posso mettere io, Iscrivetevi e lasciate like, iscrivetevi e lasciate like a questo vlog, condividete i video con i vostri video E niente, qui stiamo noi passeggiando, siamo alla marinella, c'è un motore, c'è un motore, stiamo attraversando la strada, aiuto Facciamo il giro di qua Ok Stiamo andando Peppe, piano Peppe Stiamo facendo il giro No, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua Bene Però facciamo sempre il giro di qua Ovviamente, giusto? Vabbè, facciamo sempre il giro C'è una macchina Sono le 15 e 22 E il 22 giugno E noi stiamo a camminare Secondo la bici Il 22 giugno? Così, eh? Il 22 giugno? Il 22 giugno, sì Fra due giorni scende mia zia Io? Io sono da capolice Da ragù, se scende mia zia Sì? Sono da capolice perché non la vedo tantissimi anni, tantissimi mesi Quindi, sono troppo felice Io l'adoro a questa mia zia perché Per quanto, ehm, c'è Nella zia è il mio stesso sangue Quindi, niente Stiamo facendo lavori Guardate Mi specca il termine Il pedro Il campanello C'è una Siettuta Peppe stanco Perché io devo dire che non pesa molto No, a te che sono le salite Ah, le salite ragazzi Le salite Non sbagliano mai Adesso aspetta che c'è una bellissima macchina Qua non stanco Qua no perché c'è E' tutta Strada Eppure è un po' discesa Devo dire Canzoni ragazzi Napoletane Antiparagimitane Devo dire Non so, ci vediamo qua In questo barretto Barpanineria Di qua Di qua Non lo so Vai là sotto Gira Boh Boh Non lo so Non sapevo dove andare ragazzi Oddio ragazzi Stavo volando Sotto qui sono fatti Le 15 Vado a tirare fuoco Le 15 e 24 Chiarano e 22 Sono a 24 C'è la discesa raga Che bello Io adoro la discesa E' solo che poi ti devi tenere La salita La salita La salita La salita Ma perché la salita Non ci sto Ma perché Stanno pure le salite Porca trota Porca trota Porca trota Non ci dicono barracce Quindi noi Tagliamo Porca trota Non ci dicono barracce Non ci dicono barracce E sono di gioco Passiamo Guarda Andiamo molto 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 Miano 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 Ecco Siamo Siamo Aiuto Ci siamo Un'altra Bici Un'altra Bici Un'altra Bici Un'altra Motore Altre Macchine Quanti minuti sono di video Cosa Quanto Già abbiamo fatto 4 ore di video 4 minuti 4 ore 4 minuti ragazzi 4 ore C'è la salita No Mi sta stancando Oggi andremo piano No Poi ce l'ha fatta ragazzi Peppe ce l'ha fatta ragazzi Ce l'ha fatta Peppe Peppe è forte Aiuto Mi sono riuscita con le mie unghie Peppe c'è un camion Peppe Belle bombole C'è un bel bombole Sono stanchissimo Peppe che ci posso messere la macchina Attenzione Vai ora Ma oggi Ne sono macchina Sta passando di qua Ma perché? Forse non sto ragionando fortunato Dice mio fratello Oggi è il 24 giugno Peppe te l'ho detto 300 volte Giorno della settimana Ah Ehm Non è di Lo facciamoci Vero raga Ma vale E' riuscita Se volete vedere la bici E' qui E' qui Aspetta un attimo Che io vado un attimo Nel mio fratello Vabbè Vieni Guarda la bici Aspetta Io ti ho portato la bici Con una mano Attento le canzone Tosce Ah porca Ok ragazzi Per me è passato Tipo un secondo Per me Mezz'ora Ho bevuto Abbiamo mangiato il panino E' niente Adesso Peppe con una mano Sta guidando con una mano E infatti io gli vorrei spaccare la patta Perché ho un sacco di paura Soprattutto lo tengo io il telefono E' pezzo Vabbè ragazzi Ci vediamo in un prossimo vlog Vedi Bella